Guardate bene a Truewee, questo logo sarà un po' notoriamente, non so, ma una cosa di ben 10, credo classica, sarà una figata riuscita, spero che non sia il debut, perché il debut è già finito dal 2021 all'aprile, ma comunque, auguriamoci che il futuro sia bello e soprattutto nuova negatività e nuova labilismo.